Un altro uomo, sempre sui 70 anni, morto in spiaggia. Dopo il caso di ieri mattina di Gallipoli, nel pomeriggio, è morto per annegamento il 72enne che è stato trovato in acqua all'esterno del muro paraonde del porto turistico di Manfredonia. Dopo la segnalazione giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto, è intervenuta una motovedetta e una pattuglia automontata della Guardia Costiera insieme ai carabinieri e al personale del 118. Recuperato prontamente dai militari, il cadavere dell'uomo è stato trasportato sulla banchina all'interno del bacino portuale, dove però il medico legale del Dipartimento di Foggia ne ha potuto constatare solo il decesso per annegamento. Sul caso sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.